Siamo tutti i Sura No cosa è successo? Cosa ho fatto? Kogo Oddio domani che... Sai che l'hai fatto Kogo? Cosa? Oh Nigno Marni Nigno canta la canzone di Dreda Lo siano amettila Ma che canzone che combina Mi dicono tutti i ricerchi e non lo sentono più a casa, da casa non lo sentono più no, no, ma neanche da qui ragazzi in studio, lo sentite? sei troppo vicino così non riesco a segnare in studio lo sentite? faccio un attimo un check ragazzi, faccio un attimo un check che mi faccio spiegare un attimo che chiedo a Roberta che l'ha detta all'audio non lo sentono neanche in studio mi confermano che c'è un problema col microfono, probabilmente come facciamo? ragazzi, ragazzi, telecamera, telecamera 2 attivate telecamera 2, così non ci vedi ragazzi prendi la parola prendi la parola mandala a reclam mandala a reclam vuoi avere un cazzo durissimo adesso che è il giorno della pubblicità bisogna sistemare il collegamento Walter Walter, ma tu ci senti almeno? ci senti? pronto, te, vado a casa no, ci sta rovinando la puntata piano B allora, c'è l'equilibrista che dice che senza di te non va in onda 5, 4, 3, 2, 1 siete in onda salve e bentornati Walter che cazzo ridi? per il favore, farla ragazzi ecco, ribiamo l'audio, ok improvvisate, 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 improvvisate guardate la reclam cipolla guardate la reclam ti serve un prodotto per pulire il tuo piano cottura? chi siamo noi? Krif il nuovo prodotto per pulire il piano induzione a soli 19,99 euro 4, 3, 2, 1 siete in onda siete in onda ragazzi sì, siamo tornati qua ha cotto e mangiato sì, sentiamo abbiamo recuperato il collegamento abbiamo recuperato la connessione aspetta con l'inviato no c'è qualche interferenza si senti qualche interferenza lo vediamo nel video si è alzato con le mutande sotto no, eh no togliete il video per favore solo l'audio solo l'audio ecco, allora, allora, dateli la quattro ecco, allora, passiamo a fare che d'aria dateli la quattro su Fireblaze telecamera quattro su Fireblaze sì, sì, ci siamo, ce l'abbiamo ce l'abbiamo prova audio prova audio no, ragazzi, ragazzi, ragazzi telecamera no, ragazzi, telecamera 7 c'è un pisello di fuori ragazzi, togliete scusate, non si può essere in quadrate tutto passo 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 abbiamo tagliato, abbiamo tagliato in tempo va bene, va bene, siamo mi date un colo gelato, per favore sono girato sulla 4 prego fireblazer continui pure scusi si ragazzi regia che mi sentite mentre lui va avanti è arrivato il sostituto togliate il collegamento con Walter via è venuto nel nostro podcast è un attimo che fa mi dire fireblazer zitto per favore zitto per favore zitto zitto no 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 tieniti forte tieniti forte tieniti forte ha detto no no ma io rarcomi lo ascolto da wildbandana ma rarcomi non l'ha fatto eh no no è bimbi mi sento solo per favore cioè lo so io che non l'ho ascolto no 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 ah ma no ma non era easy a fare wildbandana ah era rarcomi ma io volevo intendere i bimbi non quel bandana sbagliato fi tanti adesso dirà che non l'ha dirà eh no no ma io no no ma guarda che c'era arcomi eh guarda che c'era se guardi bene se guardi bene in fondo nei titoli di cosa c'è scritto eh mamma mia ma si ma non lo ammette mai le sue robe le pistate che dice è interessante è una persona da legare da bruciare vivo nella fedia questo qua raga è uguale all'inizio che ha fatto uguale il bandana dentro tu ne sei certo vero? si si sono sicuro ah ok l'importante è che tu ne sia certo stronzo vaste che è andato lì a farlo eh vabbè penso che idiota oddio sono in decisione super gol ma mi hai lisciato o? ragazzi teniamo duro eh che prendiamo il gol tra 30 secondi vai vi fai col gol raga che cazzo fate? ma tutti sulla palla è la 1 feet 3 no sono il bidone no 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 sono dei bidoni figli i bidoni di rocce e trara sono minchiaate no allora se non c'è da guarda questo che è guarda questo che è il bidone no ma science cosa combino? gogo go go stai facendo oddio eeeh ragazzi qua io sto scrivendo io sto scrivendo mamma mia quella scrive no no vabbè weird flex ma che cazzara no vabbè che cazzara ma comunque guarda che avrete fatto con uno no 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 Zuffadino! Zuffadino fuori ha bruciato fuori! No! Zuffadino fuori ha bruciato fuori! Zuffadino fuori ha bruciato fuori! Zuffadino sei tu! No! 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 Il mio sventacomo va a finire questa! Vabbè! Piano sminno! No! 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 Oddio! Oddio! L'abbè, venerdì! Vabbè, venerdì! La vita, venerdì! Stupro e l' perpendiana! L'abbè volato! Dove vola? Ma è per colpa di piana? Curva1 Sì! Perchè l'ha sbindata Prehingo! Curva1 Perchè devete durare il gusto! l'articolo l'invito torna su youtube così lo fa apposta no te lo no te lo giuro ma questa qua la farò vedere dove vai te sei a sinistra no tu stai a sinistra ma questo no se ne infilo adesso da sinistra bene va bene va bene ci siamo l'idea è guidata un po' continuo a continuare a venirmi sui piedi sto coglione manco suo padre vabbè 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 cosa chiede palla non ci sono i bot ma si era l'alfabeto guarda guarda i capelli è un personaggino stupido in cui no mi ha baggato tu no raga vedete anche voi raga vedete anche voi che eh tutto è baggato vai dove andato dove andato dove andato guardate quel fascio di bossetti che si 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 ma io non ho fatto niente raga ma io non ho fatto niente raga ma io non ho fatto niente raga no ma va a cagare ma è figa figa di occhiare ma chi è? si 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 anche le tue esplavazioni ma va a cagare si 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 si